buonasera a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video era da un po che in realtà non facevo un video avuto un piccolo piccolo stacco per vari motivi ho avuto l'influenza avuto tante tante altre cose da fare quindi ci sono uno stacco di un paio di settimane diciamo le ultime l'ultimo video è stato forse che mi avevano rubato l'iphone l'iphone x a milano poi ho fatto la recensione dell'iphone 11 pro e mi sono stoppato lì però adesso ricominciamo idee per questo questo video odierno un amico mi consigliava due giorni fa circa ma visto che il 14 vedite che poi si ricordano loro le cose meglio di me visto che il 14 fai un anno e tre mesi che ti sei lasciato perché non fai un video su questa cosa no no perché in realtà l'ho già fatto l'ho già fatto il 14 agosto quando ho fatto un anno da single e era un video riflessione e però posso far qualcosa di similare cioè nella vita non esiste solo il fidanzamento colui che fidanzato la storia eccetera eccetera nella vita ci sono tante prospettive quindi ci sono tante altre cose quindi magari che ti posso dire ti posso fare un video dicendo guarda ti do dei consigli consigli per la coppia cosa che comunque vorrei fare e per chi ancora c'è una coppia ma anche consigli per i single perché poi alla fine si rischia di non star bene in coppia lasciarsi e di non star bene neanche da single e quindi dice che fai o uno o l'altro no e quindi secondo me è da un lato può essere anche più utile saper stare bene da single e poi eventualmente se si se nasce un amore perché no è una cosa carina dico io non credo che a me succederà mai però dico cioè ognuno magari può succedere va bene ok quindi facciamo così consigli sia che per le coppie e sia per i single io direi di iniziare dalle dalle coppie però consigli per le coppie il problema principale delle coppie odierne di oggi qual è che purtroppo spesso e volentieri si litiga e si hanno fraintendimenti diciamo per stupidaggini per cose che potrebbero essere evitate e alla fine sono proprio queste piccole cose che a lungo andare nel tempo portano possono portare comunque a un disequilibrio nella coppia quindi ci sarà sempre comunque qualcuno che sbaglia più dell'altro ed è normale e ci sarà sempre qualcuno che è più testatura ecco diciamo uno dell'altro e quindi questo porta un disequilibrio il disequilibrio porta poi a lungo andare alla rottura definitiva della coppia come evitarlo il consiglio di molti anche esperti è quello di parlare parlare di più ed è un consiglio giusto da un lato perché se tu hai un problema parli e lo risolvi ma spesso nelle coppie non è così per il semplice fatto che c'è in ballo un fattore che io ti dirò chiamerò il fattore emotivo cioè che vuol dire che io sono emotivamente coinvolto da quella persona e quindi tutto ciò che può essere la logica dei concetti logici anche semplici vengono a mancare danno qualche problema diciamo ecco così quindi non è sempre semplice dialogare l'un con l'altro per via di questo o per via della della gelosia quindi cosa fare in questo in questi casi provare sì a dialogare ma in un certo modo cioè prima di tutto secondo me comunque la cosa fondamentale è che entrambi entrambe le parti si entrambi le parti siano calme tranquille quindi se noi parliamo di un dialogo in mezzo a una discussione che si è già creata quando gli animi sono un po' alterati allora non va bene io parlo da almito tranquilli portare degli esempi ognuno i propri esempi per cercare di dimostrare che la cosa non sta funzionando per questo motivo portiamo un esempio guarda secondo me è il fatto di essere troppo gelosi ad esempio non va bene perché se tu sei troppo geloso o gelosa a quel punto qualsiasi cosa si possa fare nella vita che ne so anche andare a casa di un amico può diventare un problema al momento in cui c'è già un po' di nervosismo per i cazzi propri nella propria giornata e ci aggiungi quel pelino in più allora lì salta la bomba quindi secondo me tu sei troppo geloso sei troppo gelosa e non va bene quindi non esserlo punto l'altra persona sicuramente risponderà no però io come faccio a non esserlo allora non è che siamo scimmie cani gatti siamo esseri umani quindi se riusciamo ad apprendere non è semplice se riusciamo ad apprendere quello che è l'autocontrollo delle proprie emozioni del proprio io ecco diciamo così allora andremo ad evitare sicuramente tutti questi problemi perché la parte interessata può avere quell'attimo di gelosia e poi dire aspetta ma cosa c'è infine che motivo c'è cioè ci saranno le spogliare liste a casa di tizio x non credo potrebbero esserci potrebbe succedere qualcosa come in un film porno non credo è successo qualcosa del genere in passato no effettivamente no allora perché sono geloso perché sono gelosa quindi farsi un'autocritica e poi capire che quella cosa effettivamente è giusta e o sbagliata sempre portando degli esempi sempre dialogando però in maniera calma tranquilla e per un tempo limitato cioè io stabilisco che essendoci dei problemi io mi dedico un'ora due ore tre ore cinque ore a settimana quel che è per parlare dire io la mia tu la tua io la mia tu la tua prima o poi o io devo capire che sbaglio o tu devi capire che sbagli oppure se ognuno resta sulla propria posizione non c'è niente da fare ci si lascia però il tutto deve essere fatto in maniera logica cioè io devo portare una ragione logica per ciò che dico cioè vale a dire questo cavo ecco lo vedi è bianco perché se tu lo vedi lo giri lo rigiri così lo rigiri in quest'altro modo come lo giri lo giri vedi è bianco vedi ma se io dico prendo un cavo nero e dico ma per me è bianco perché io la penso così eh ma non vedi è nero eh ma per me è bianco allora in quel caso penso che sei proprio sulla strada siete proprio sulla strada sbagliata perché comunque quello che comanda deve essere il cervello la testa la logica e non il coinvolgimento sentimentale eh il cuore che sì ci deve essere giusto ma non deve sovrastare quello che è appunto il pensiero logico eh delle cose quindi mettersi in terza persona e cercare di parlare di capire anche in terza persona eh come se non fossi io ad avere un determinato comportamento ma me lo facessero e quindi mettersi in terza persona e dire cazzo però se me lo facessero no io non sarei contento quindi questo è il piccolo trucchetto è molto difficile da applicare molto semplice da dire molto difficile da applicare eh però col tempo eh se una coppia veramente si ama eh ci si dovrebbe riuscire non è detto che ci si riesce una coppia si può anche amare e non riuscire mai diciamolo eh quindi l'amore non basta non basta non basta e non basta però è un sicuramente il punto di inizio eh per poi aggiustare perché comunque è un percorso eh che si fa insieme che fanno due persone e questo percorso deve essere fatto da entrambi bene e soprattutto eh la cosa più importante che deve essere ehm ci devo ci vuole motivazione cioè eh non bisogna arrendersi per ogni cosa bisogna anche essere un po' eh forti caratterialmente diciamo perché altrimenti mi sa che non non si può andare da nessuna parte e si può fare si può fare ragazzi è solo che non è semplice non è semplice eh quindi bisogna impegnarsi tanto e soprattutto eh ripeto e torno a dire parlare comunicare senza farsi coinvolgere eh in quel momento almeno sentimentalmente guardando le cose in maniera logica ascoltando le spiegazioni e dandole e soprattutto mettendosi ognuno al posto dell'altro così facendo piano piano eh si riescono a risolvere quelli che sono i piccoli problemi di coppia chiaramente sempre la base è l'amore se manca quello non si può fare questo percorso ma se c'è non è detto che questo percorso debba riuscire anzi il più delle volte non riesce lo stesso perché comunque la gente è debole le persone sono deboli soprattutto quando si tratta di sentimenti e un po' tutti lo siamo e quindi le lagune vengono a galla e quindi non ci proprio non ci si riesce a eh a risollevarsi a fare qualcosa a risolvere quella cosa quindi i problemi piccoli problemi umano si accumulano eh creando poi quella che è la distanza tra le due persone che a lungo andare porta la rottura definitiva della relazione la rottura definitiva della relazione non comporta necessariamente che le due persone o una delle due eh non si debbano più amare anzi il contrario il contrario spesso e volentieri capita il contrario che passando il tempo ehm la cosa non va diminuendo ma va bensì crescendo sempre di più e voi vi chiederete perché perché tolte i problemi tolte le cazzate tolte le stronzate tolte le stupidaggini tolta la spazzatura che c'era di sopra cosa resta? resta ciò che è bello che puro che 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 ha un grande significato quindi il sentimento è quindi consiglio di coppia per me è questo e io l'ho imparato a mie spese e neanche tanto perché devo dire che io ho applicato questi consigli che io do a voi al cento per cento però qual è la cosa fondamentale che devono essere entrambe le persone ad applicarli perché al momento in cui è una sola delle due persone è inutile anche farlo e poi vi dico un'altra cosa e stacco non necessariamente bisogna andare d'accordo per riuscire a dialogare io posso dialogare benissimo con tutti anche se non condivido le idee o al contrario posso avere un carattere che non mi permette di dialogare con le persone che hanno un'idea leggermente diversa dalla mia questo è un limite mentale e va superato ed è alla base non solo di una relazione sentimentale amorosa ma alla base di qualunque relazione umana dopodiché io vi saluto e nella prossima puntata invece accontento me stesso e parliamo di consigli per i single per quando si è single da single cosa fare cosa non fare dove andare eccetera eccetera quindi sarà molto più interessante di questo come video e vi aspetto ciao grazie a tutti grazie a tutti